e riviusi asmr ciao a tutti, come state? spero tutto bene sono tornata, eccomi qua oggi andremo a mangiare i torroncini siete pronti? uno, due, tre, vai li andremo a sfuggiare insieme eccole ore un bello, un bello, vallare taroncini, taroncini taroncini, taroncini taroncini, taroncini bene adesso li andiamo a sbucciare tutti così vediamo come sono all'interno noi e voi li mangieremo insieme e queste verde ragazzi bianco verde seus ci sempre il mito che va danno ah ok questo è cioccolato al latte vedi che è diverso piccoli qua i nostri torroncini tutti in fila ma quanto belli sono ragazzi cioè io ve li faccio vedere tutti insieme così guardate guardate quanto sono carini insieme eccoli sono bellissimi ok andiamo subito a mangiarli è arrivato sa che Zeus qua Zeus cosa c'è amore stai buono dai fai il bravo è venuto a salutarci mi sono mancati i tuoi fan tesoro si siamo tornati siamo tornati perché siamo stati un po' in ferie per le feste ci siamo presi una pausa ma adesso ricominciamo vero tesoro quasi tutti i giorni dai un video ce lo facciamo ecco cosa dici dai ok aspetta ecco qua ok andiamo a mangiare i nostri torroncini ci sono Sì, non è vero. Oh . . . . . . . . iscriviti al nostro canale iscrivete mi sotto in un commento quale secondo è il mio preferito e poi alla fine ve lo dirò ok bene ragazzi avete scritto qual è il mio preferito secondo voi? allora adesso vi do il verdetto 1 2 3 quello con il cioccolato fondente ovvero il terzo perché io adoro il cioccolato fondente ha quel gusto un po' marognolo e dentro quel gusto dolce che è molto buono in contrasto bene ragazzi io vi ringrazio di aver visto questo video ci vediamo alla prossima vi dà un bacio e buona serata ciao